Buongiorno a tutti, io sono vicepresidente dell'associazione ucraina Amor Vitae che è nata l'8 marzo a Cesano Maderno, provincia di Monza e Brianza, con le esigenze che abbiamo avuto dal nostro paese che in Ucraina è scoppiata la guerra e noi ci siamo sentite più che altro tutte le donne, tutte le mamme, in dovere di aiutare il nostro popolo e quindi la nostra associazione è nata proprio l'8 marzo, puro caso, però proprio nella festa della donna e abbiamo cercato da sempre di aiutare tutti quelli che avevano bisogno, ci venivano fatte delle richieste sulla pagina Facebook e ci chiamavano spesso tutte le persone che avevano bisogno e noi cercavamo di aiutare tutti. Amor Vitae perché nel periodo di tutto quello che sta succedendo in Ucraina, Amor Vitae è come amore per la vita. Stiamo continuando tuttora a fare le raccolte e per mandare aiuti in Ucraina, anche adesso come vedete qua ci sono già i pacchi fronti che proprio l'8 marzo partirà un carico per orfonotrofio di Cernichiv che si chiama Nadia, dove sono tutti bambini piccolissimi da 0 a 6 anni che hanno bisogno di cibo, di pannolini e di tutto, quindi noi abbiamo proprio fatto tutte le raccolte per poter aiutare questi bambini. Come vedete la nostra associazione è composta da donne, da mame e a volte è molto difficile far coincidere lavoro, bambini e tutto quello che facciamo per il nostro popolo, però cerchiamo con la forza che abbiamo dentro, sapendo che c'è tanta gente che ha bisogno di noi, cercare di fare tutto il possibile per aiutare la nostra patria. Abbiamo ancora tanti esigenze e tanti bisogni, se volete aiutarci a noi seguiteci pure su Facebook, abbiamo una pagina Facebook che si chiamano a Morvitae. Vi auguro a tutte le donne, auguri di 8 marzo e tanti auguri a tutte le donne. Grazie.